...i numeri dei 20 fortunati biglietti dei premi di prima categoria dell'edizione 2004-2005 della Lotteria Italia. Ma se la fortuna in questa trasmissione è stata, come dire, sottolineata da una musica particolare, questa musica è quella dei tenores di Bitti, tenores di Bitti, eccoli qua, per la prima volta, finalmente, finalmente, vi vedo in carne ed ossa, benvenuti, benvenuti. Mai portate il cappelletto, io mi metto la... sì, come si mettono questi affari qua? Eccoli qua, ecco, moba da tastoni, ah, si mette dietro. Adesso puoi cantare con lui, va ragazzi, è impressionante! Allora, prego, io vi faccio cantare almeno un minuto di questo brano, poi rimarrete qui a disposizione, qualora servisse della buona sorte, voi siete portatori sani di fortuna con questa canzone, un minuto affinché vengano esorcizzati tutti i maligni che potrebbero accanirsi sulla sua avventura di stasera e su quella di tutti, a me sembra un cretino, con sta cosa in testa, non perché voi lo siate, ma perché io non centro niente con la vostra tradizione importantissima, non ci sono abituato con sta cosa in testa, dico, però, ecco, questa cosa serve esorcizzare anche voi a casa, e allora, tutti in piedi, e quando è il momento, sapete cosa fare. Prego! 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 lo so è un rito importante. Va avanti, manco ci ha pensato, a verbale, tenores, tenores deve aprire tre pacchi, prego, dannate, siete pronti? Coraggio, vai, 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 e ogni volta devo fare tutto Carvario qua, Osama, ma che è? Venite qua, ah mannaggia la miseria, date gli due microfoni che se li portano a casa, pure per ricordo, no? Tutti in piedi, eh, avanti, facciamo un po' di ginazia che si dà un passo dalle piaghe da decubito. Allora, prego, veloci, veloci, vai. No, e te la ferma, te la ferma perché io c'ho gente, ha capito? Bravissimo, torni dopo, torni dopo, grazie. Allora, io le ho dato un'ulteriore possibilità per cercare... Lotto, l'Emilia. Lotto, l'Emilia, bravo, non perda tempo. L'Emilia Romagna ci dice che lei con questa chiamata rinuncia a ripetere. Dieci euro, finalmente, Paolo. Oh, appena cantano i tenores di Bitti, questi porta fortuna insulari, subito arriva una chiamata buona, bene, prego. Cinque Lumbria. Cinque Lumbria, 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 con i suoi cuccioli, ci dice il gendarme. Oh, guarda che pazzesco. I tenores di Bitti sono i competitor del mio posteriore. Venti, Valle d'Aosta. Venti, la Valle d'Aosta, la valanga, la valanga ci dice che lei con questa chiamata rinuncia a ripetere. Ma va bene, ma va bene, perché di tutto quello che c'era a disposizione, tutto quello che c'era a disposizione, lei è andato a toccare quello di minor valore. E rimangono ancora in gioco 75.000, 100.000, 150.000, 500.000 e un milione di euro. Però intanto si è riuscito a togliere dalle scatole, perdoni l'assonanza con la circostanza, due chiamate alquanto negative. Bravo. Allora, il primo pacco che è stato chiamato era il numero 8.